Assessore Masiero, allora il Comune di Arzignano sta spedendo delle cartelle in questi giorni? Esattamente, proprio in questi giorni stiamo uscendo con più di 8 mila avvisi di pagamento tra cartaceo e email per quanto riguarda sia la Tasi che l'Imu. Per entrambe le tariffe rimangono invariate rispetto all'anno precedente e anche con un elemento di novità. Su questo invito i cittadini a guardare bene il prossimo F24, nel quale sarà indicato un barcode con il quale potranno andare nei luoghi adibiti a pagare ed evitare eventuali errori di trascrizione. A parte l'Imu e la Tasi c'è anche la questione relativa alla Tari, non immediata? Non immediata perché si parla nel mese di ottobre. In ogni caso, anche qui avremo una tariffa che rimarrà inalterata rispetto all'anno precedente, soprattutto per economie di costo effettuate proprio da questa amministrazione.